Trentesima domenica del tempo ordinario. Ricorderete sicuramente domenica scorsa nella parabola ascoltata da Gesù sulla vedova inopportuna e il giudice disonesto la parola di Dio che ci ricordava la necessità della preghiera insistente, perseverante per una vita autentica nella fede. Il messaggio che ci offre oggi invece la parola di Dio riguarda il come pregare, cioè con quale assetto del cuore, con quale atteggiamento principale del cuore presentarsi al Signore affinché la nostra preghiera non cada nel vuoto. Perché anche oggi in chiesa o a casa si può andare alla preghiera con delle disposizioni ambigue, un atteggiamento ambiguo. L'identità infatti dei due personaggi del Vangelo di oggi la dice già abbastanza lunga su chi corre il rischio maggiore di giungere a queste disposizioni ambigue dell'animo. Il pubblicano infatti è una figura abbondantemente disprezzata in Israele, potremmo dire un peccatore per antonomasia nei Vangeli, mentre il fariseo nello stesso popolo è una persona religiosa per eccellenza. Allora il primo implicito messaggio è tutto qui, rischia di più chi si vuole impegnare in un cammino spirituale. Dunque bisogna badare bene che nel proprio cuore non nasca e non cresca quello che proprio nell'introduzione del Vangelo si dice che Gesù raccontò questa parabola per coloro che avevano l'intima presunzione, versetto 9, di essere giusti disprezzando gli altri. Dunque la parabola è per tutti ma soprattutto per noi credenti. La postura del fariseo nella preghiera è quello di un uomo, ci dice il Vangelo, che sta in piedi e in sé questo potrebbe essere un buon atteggiamento. Stare in piedi potrebbe indicare prontezza nell'ascolto, nell'obbedire, nel servizio. Solo che il contenuto della preghiera che ascoltiamo dal fariseo smaschera un assetto del cuore totalmente incompatibile ad entrare in relazione con Dio. È l'assetto di chi fonda la sua pseudofede sulle proprie opere, sulle opere della legge e sul moralistico confronto con gli altri. Io non sono come quello lì, non sono come questo pubblicano qui dietro, come i peccatori. Ed è la rivelazione dunque di una persona tutta concentrata a mantenere una buona reputazione davanti a sé e a Dio, come se Dio poi fosse qualcuno che chiede prima di tutto questa qualità della vita. È indizio cioè di una vita tutta preoccupata a distinguersi dagli altri, protesa sempre alla ricerca del successo, tipico di tutte quelle persone che per raffermarsi hanno sempre bisogno di disprezzare o distruggere gli altri, personalità autosufficienti ma che in realtà sono molto inconsistenti. Sono quelli che, come si dice in un certo modo di parlare, vogliono cadere sempre in piedi proprio perché spesso, ahimè, godono della caduta degli altri invece che averne compassione. Il colmo di questa equivoca postura sta poi nel fatto che il fariseo ringrazia Dio per tutto questo. Anche qui come se Dio potesse averne una qualche soddisfazione da una preghiera così, perché a questa vita lo chiamerebbe a distinguersi dagli altri, a disprezzare gli altri. In realtà chi pregasse come il fariseo è solo incentrato su una falsa immagine di Dio. La sua preghiera è sintomo di una vita poi illusoria, solitaria, uno che non incontra Dio ma solo se stesso, uno che parla solo con la proiezione del proprio triste io. Non così però il pubblicano, il quale invece conferma nella sua postura, nel contenuto della sua preghiera, che davvero il Signore Gesù non è venuto a chiamare i giusti ma i peccatori, che non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Ed infatti spicca subito tra le due preghiere che quella del fariseo suppone un falso bisogno che Dio avrebbe delle opere dell'uomo e di una moralità superiore che ci faccia emergere sugli altri. Mentre l'altra preghiera, quella del pubblicano, suppone il vero bisogno dell'opera di Dio da parte dell'uomo, cioè della sua misericordia. Da notare poi quel suo fermarsi a distanza, il non osare alzare gli occhi, il suo battersi il petto mentre proferisce quelle poche e semplici parole. Oddio, abbi pietà di me peccatore. Ecco, il pubblicano manifesta invece l'assetto fondamentale di ogni autentica preghiera, quello che identifica subito chi è Dio e chi siamo noi, che il puntare il dito non deve dirigersi su Dio ma su noi, che il bisogno di salvezza lo abbiamo noi verso Dio, non lui verso di noi. Il versetto finale del Vangelo dice così io vi dico questi a differenza dell'altro tornò a casa sua giustificato perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Cioè il pubblicano torna a casa reso giusto da Dio nella sua preghiera. Il fariseo invece vi torna non giustificato perché si giustificava da solo nella sua preghiera. Cosa dobbiamo aggiungere? Che come diceva sempre Gesù in un'altra parte del Vangelo se la nostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei noi non entreremo nel regno dei cieli. Cioè solo la giustizia divina che è la sua misericordia ben superiore a quella umana può rendere giusto l'uomo. E questa l'opera di Dio compiuta sulla croce da Gesù. La giustizia umana infatti è fallace, anzi è di sua natura per così dire ingiusta perché oltre a farci prendere spesso delle cantonate tende a farci autoesaltare come accade al fariseo e può portare anche al delirio di una vita fuori dalla realtà. Io devo dirvi che conosco un uomo così che sta conducendo una vita delirante, un uomo in pensione che forse ha avuto anche una conversione che non conosco bene ma che oggi è estrenuamente convinto di essere un integerrimo praticante nella chiesa di Dio e si è allontanato poco a poco dalla comunità cristiana, dalla chiesa creandosi addirittura in casa sua e anche all'esterno di casa sua una piccola succursale ecclesiale con tanto di effigi cristiane e poi scrive continuamente lettere minacciose a preti e annuncia cose cataclismi e in un sacco di cose negative e vive isolato da tutti ma conosco anche un'umile donna che vive in una sperduta frazione del basso veneto la cui preghiera è diventata talmente una sola cosa con la sua persona che tanti tra cui anche il sottoscritto si ritrovano a cercarla per essere ascoltati e raccomandarsi alla sua preghiera di intercessione. Nella vita prima o poi si trova sempre confermata la parola del Vangelo ma uno se ne accorce soltanto se davvero la propria preghiera sta diventando piano 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 come quella del pubblicano che abbiamo ascoltato oggi. Buona domenica a tutti.